Molti giocatori dicono che quando smettono il primo anno è tremendo. Sì, diciamo che noi siamo abituati a giocare a determinati livelli, ad avere tanta adrenalina perché quando vai in campo, come dicevi, siamo di fronte a migliaia e migliaia di persone e l'impatto quando ho smesso di giocare non è stato devastante, anzi l'ho presa in maniera molto serena perché ho dato tantissimo al calcio, il calcio mio mi ha dato tanto e quindi ho preso la decisione proprio in serenità. Senti, ora sei vicino anche alla nazionale, almeno la nazionale giovanile dicono così. Sì, inizieremo un percorso da quest'anno con le under della nazionale dove cercherò di imparare un po' il mestiere di allenatore, di supervisore, vedendo i ragazzi, vedendo tanti talenti e cercando di apprendere sempre qualcosa. Tra l'altro lo farai con Barzagli. Andrea è un amico, un compagno di squadra ma anche un grande amico e cercheremo insomma di dare il nostro contributo ai ragazzi e di ricevere anche qualcosa come bagaglio tecnico. Grazie. Grazie.